Ehi, Biggie! Biggie! Vent'anni fa fu affidato a lei il caso Notorious Big, giusto? Ehi, Biggie! Sono giornalista. Perché è così importante per lei questo caso? Un omicidio come questo... Resta irrisolto solo se la polizia non vuole risolverlo. Ho letto il fascicolo. Ha dei sospetti. Vent'anni è neanche un arresto. Avete sentito che chi ha ucciso Tupac era stato assoldato dall'entourage di Notorious Big? Non è stato Biggie a farlo uccidere. I fatti indicano che c'è dell'altro. Se troviamo un collegamento tra l'agente e l'omicidio di Biggie, il dipartimento di polizia crollera. Per la città sarebbe la rovina. Polizia! Perché ha nascosto il legame tra il dipartimento e la Death Row Records? Non posso rilasciare dichiarazioni su un caso aperto. Finché c'è un'indagine in corso, quella prova resterà chiusa in una stanza buia. Stiamo rischiando spargimenti di sangue nelle strade ogni giorno. Mettetevi tutti i fatti a terra! Fatti a terra adesso! Lei non ha idea di che cosa è capace il dipartimento. Noi ci dissociamo da questa versione dei fatti. Volevo sentire questo. Che ho fatto? Senta dall'auto, avanti! Guardatemi! Chi ha ucciso Notorious Pig? Questa storia poteva finire in un solo modo. Era un altro modo più tardi! Grazie a tutti! Guardate qui su美國 e su questo è il 2020. Guardate qui su好 gosa! Grazie a tutti